Cari amici, io non so se questo governo avrà vita lunga o meno, so per certo che la sicurezza dei cittadini non è nelle sue priorità, no. Dopo le mitiche imprese del ministro dell'interno del governo Monti a favore dei cittadini, intendo solo quelli azionisti di Telecom, a cui ha concesso una barcata di soldi per i braccialetti elettronici di scarsa o nulla utilità, dopo gli interventi da statista dello stesso ministro, ora transitato la giustizia con decreti di libera uscita dalle carceri di migliaia di delinquenti o comunque condannati per rapine, violenze, furti, spaccio e altre amenità simili e degli aiutini a quelli che possedevano il suo cellulare, dopo ancora che l'attuale ministro dell'interno, autorevolissimo successore, ha candidamente ammesso che non se lo filano neppure i suoi più stretti collaboratori, come dimostra il caso della cazzaca arrestata dalla sua polizia, estradata dal suo stesso di Castero, riportata in Italia da un altro ministro, quello degli esteri, con una figura di BIP internazionale e allora è chiaro che i veri problemi della sicurezza degli italiani non sanno neppure cosa siano, d'altronde cosa volete che ne sappia chi vive senza contatti con i problemi di tutti i giorni di tutti i cittadini. Potrebbero informarsi, direte voi, no, no, se lo facessero e ci fosse la prova che avessero capito, è lecito avere qualche dubbio, poi non potrebbero più dire che le cose avvengono a loro insaputa. E la custodia cautelare via libera al mini-indulto, la sciala baieva, la cazzaca che rischia di diventare latitante, l'esecuzione in diretta televisiva in Calabria e tutto quello che accadrà ancora, che va fuori dalla nostra fantasia, ma accadrà sicuramente e le vittime saremo noi cittadini qualunque, non quelli che hanno provocato questo schifo. Grazie, a presto.